Io nasco in un paesino di 10.000 abitanti in provincia di Roma e ho iniziato a frequentare Roma quando facevo il liceo artistico. I miei clienti sono tutte molto belle, hanno un unico difetto comune che vanno sempre tutte di corsa, quindi noi ci dobbiamo ammazzare, cercare di farli uscire puntuali per i loro appuntamenti. I colori che durante il giorno facciamo i controlli secondo me quelli più belli anche da vedere su una donna sono dei colori caldi, parliamo di cioccolato e a me piace tantissimo anche il rosso. Quando sono in giro l'immagine che vedo sui negozi del nostro marchio Egon è molto bello perché rivedo un po' tutto quello che faccio durante il giorno. Vedo un tubetto di tinta dove io controllo il colore, caspita il lavoro che faccio si vede nelle vetrine. Diciamo che la bellezza per quanto mi riguarda è donna, cioè mi capita spessissimo quando uso proprio dei colori che abbino, dei colori che magari sono complementari tra di loro, cioè riesco ad emozionarmi, riesco a creare il contrasto col colore e in automatico il contrasto con la mia emozione. Il colore è emozione.